Oddio 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 C'è un nuovo piano! Oddio, non ho visto un miede! Ma... Questo è un giramento di testo in grado, non c'è uno scopo strano! Ma che stai ne obani! Ma che cavolo dico? Ma perché ci ha questo aluzione? Ma che cosa facciam? Ma che cosa facciam? Ma che cosa facciam? E anche io, tutto strano con i bambini! Cioè, e poi perché stavamo qui per terra? Ma scusa, io non ricordo che... Ma adesso che arriva? Chi sei? C'è io! 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 una cosa in canti dentro lo specchio non è rosso in questi e poi cavolo non ci siamo noi oh non ci siamo nello specchio oh 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 aspetta un attimo ma esiste una finestra e una porta oh madonna non ce ne avevamo pensato forse si può uscire proviamo ad aprire la porta si ci provo io vediamo se si proviamo non si apre oddio niente da fare non si vuole aprire provaci tu ok prova perché veramente non capisco non si vuole aprire vedi c'è niente da fare non si è poco bloccato oddio smanto c'è niente da fare è impossibile non c'è niente da fare te l'ho detto aspetta un attimo eh proviamo la finestra che magari si apre vediamo cerchiamo di aprire provaci ma c'è niente da fare io Mark come facciamo adesso come fare io no però dobbiamo provare ad aprirla questa persiana non si può si c'hai ragione si ce la dobbiamo fare mi sono veramente stufato questi cacchi misato a marzo ecco ecco stefana si aspetta un attimo guarda è tutto rosso fuori oddio 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 bravo abbiamo ad aprire oddio è tutto rosso oddio oddio Mark non abbiamo più riscampo Mark come faremo siamo in trappola Mark nooo 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 oddio Marco nooo 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 aiuto nooo 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 facciamo te ti apri più orse torna di aprire gli uomini, ti appuglio, oh Dio. Aspetta, oh Dio si è aperto, non so dirti, oh Dio, oh Dio, oh Dio, oh Dio, oh Dio. Oh Dio, oh Dio, oh Dio, oh Dio, oh Dio, guarda, oh Dio, si è chiusa, è vero, come è possibile? E poi con le mani, c'erano delle mani, oh Dio, oh Dio, è possibile? Si, Marco, guarda lì, anche la porta è chiusa, siamo entrato a volare, oh Dio, oh Dio, Marco, ho paura, sei veramente stufata, non ne posso, anche io, Rocco, stufata, oddio, è tutto buio, oh Dio, che succede che ha spinto la luce, oddio, non c'è niente. Marco, aiuto, Marco, aiuto, ho paura, Marco, oh Dio, Marco, aspetta, che cavolo è successo? Non c'è, non c'è più, oddio, oddio, non c'è più il rosso, non c'è più quella luce, capi? Facciamo? Potremmo essere liberi? Si, oddio, oddio, si, non c'è più il rosso, no, si, oddio, oddio, non c'è più il rosso, tutto, non ne posso veramente più guardare aspetta un attimo ma se qui non è rosso forse anche fuori che dici di andare a controllare fuori dalla finestra vorrebbe essere che non c'è più niente andiamo infatti prova ad aprire prova ad aprire io attenzione vediamo Mark c'è il travedo che dà qui è tutto normale apriamo che bello finalmente siamo tornati nella terra che cacchio siamo tornati nella terra che bello che bello allora proviamo adesso a vedere la porta vediamo se è tutto normale sì arriviamo proviamo ad aprire sì è tutto normale è tornato tutto normale è casa tua è mia casa sì sì oh che bello tutto il re lo miro che bello che bello ma in me oh Dio non pensiamo pensiamo l'uomo se fosse stato di prendere ma la faccia di Soda è morto esatto aiuto Mark dove è venito aiuto 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 a'mah no 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 Dio, mia moglie! Dio, mia moglie! Vuoi? Ma non devo stare? Ma non ci fanno forse ci salutoare. Stai, ma non prende il mio! Oddio, che succede? Stai prendendo la porta! non voglio morire Oddio Oddio Marco Oddio Chi è? Aiuto Aiuto Oddio Oddio Aiuto Aiuto Marco Paura Aiuto Marco Oddio Oddio Non voglio morire Aiuto Oddio Oddio Aiuto Oddio 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 Grazie per la visione!